Il secondo istituto comprensivo di Ferentino con la classe seconda sezione A e la classe terza sezione D. Grazie. Allora, sentite quello che si dice il fotografo che si mette al posto, il pregio di condizioni di condizioni stradali. Grazie. 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 Io sono il vicepresidente del secondo istituto comprensivo di Ferentino. Grazie. È il primo anno che partecipiamo a questo concorso e quindi è stato un onore molto grande per noi arrivare in questa fase finale al primo volto. Tra l'altro quest'anno in tema di sicurezza stradale, nel corso degli anni passati abbiamo sempre affrontato l'argomento. La prima volta che partecipiamo a questo concorso, non solo, abbiamo partecipato a un altro concorso che si tiene nella nostra provincia di Frosinone al premio Cocco, Alberto Cocco, che tra l'altro è una delle nostre classi che è arrivata nella fase finale di questo concorso, che siamo doppiamente premiati quest'anno scolastico, quindi è un grande orgoglio per noi. Ecco, una piccola puntualizzazione soltanto sul lavoro che hanno realizzato i ragazzi. Forse una delle cose più interessanti è che i ragazzi stessi hanno fatto un'intervista al nonno di uno di questi ragazzi più presenti, il quale purtroppo ha avuto diverse brutte esperienze riguardo agli incidenti stradali, fortunatamente si è reclamato entrambi nelle tutte e tre le occasioni e per cui ha raccontato la sua esperienza e lui stesso ha dato dei consigli ai nostri ragazzi per prevenire le brutte avventure che si possono verificare nella strada. Grazie. Grazie. Allora, ringraziamo ancora la scuola di Trentino, siete accomutati, proseguiamo con la... Grazie.